Oggi è la giornata della consegna in prefettura delle medaglie d'onore concesse dal capo dello Stato come ogni anno a coloro che hanno subito da civili o militari negli anni tra il 43 e il 45 l'internamento nei lager nazisti per essere adibiti all'economia di guerra, così si chiamava. E naturalmente sono chi ha ritirato la medaglia oggi per lo più un successore, un erede della persona che a suo tempo fu internata, però abbiamo ritenuto che mettere insieme queste persone con le autorità, con il loro sindaco del comune di appartenenza, con i loro nipoti, oggi c'erano anche dei ragazzini, sia importante per mantenere viva la memoria di quel periodo.